Non è solo il Covid a mettere in pericolo la salute degli studenti, preoccupa anche lo spaccio di droga. Infatti sono state messe in campo anche a Fano le attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti con il progetto Scuole Sicure. Ieri gli agenti del commissariato di Fano, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, hanno organizzato servizi mirati all'interno e all'esterno delle scuole della città. Con la collaborazione della polizia locale e il supporto dei presidi hanno svolto i controlli con i cani antidroga del distaccamento cinofili nella polizia di stato di Falconara. All'istituto Senica del Polo 3 è stato individuato un minorenne con addosso diverse dosi di marijuana che non sono sfuggite al cane poliziotto. Lo studente è stato denunciato a piede libero per detenzione della droga che è stata sequestrata dagli agenti insieme al denaro 35 euro provente dell'attività di spaccio. Determinante per l'operazione di polizia è stato il supporto e l'indirizzo della dirigenza scolastica, ma le attività proseguiranno sia con i servizi operativi antidroga sia mediante la partecipazione degli agenti agli incontri sull'educazione alla legalità.